FIDA Group è un'idea che nasce nel 1990, una soluzione di successo creata nell'impiantistica industriale. Il nostro è un lungo viaggio, una storia di oltre 30 anni. Dedizione, ambizione e passione sono state le chiavi del nostro successo. FIDA Group oggi guarda il futuro con entusiasmo. 8 filiali nel mondo, oltre 100 talenti in azienda, 4 unità produttive e un catalogo di 300.000 prodotti. Il nostro successo non sarebbe possibile senza l'impegno dei nostri collaboratori. Sono loro il cuore dell'azienda e grazie a loro che si superano le sfide e si raggiungono obiettivi sempre crescenti. E grazie a loro che si continua a scrivere alla nostra storia. Il nostro ufficio tecnico è composto da un team di persone suddivise per esperienza e competenza nelle tre business unit. Con la business unit per parte seguiamo tutto ciò che deriva dalla manutenzione industriale. Mentre con la business unit working system partiamo dal design, definizione materiali e fornitura di tutto ciò che è relativo ai sistemi integrali, quali illuminazione, messa a terra o processo. Specialisti chimici e meccanici si occupano della realizzazione di laboratori e officine partendo dalle esigenze di progetto fino ad arrivare alla realizzazione e al commission di clienti. Completano l'offerta le quattro unità produttive. Chiavesti Tecno che dagli anni 80 si occupa della produzione di canaline e portacavi. Eurocavi, cavi di potenza e strumentali e controllo speciali basati su specifiche del cliente. Atex, tutto ciò che è relativo alla distribuzione elettrica in zone a potenziale rischio di eclosione. E l'ultima arrivata, ITE che si occupa della produzione di raccorderia e tutto ciò che è relativo al processo industriale. In questo momento siamo nel polo produttivo di Schiavesti, dove produciamo passerelle portacavo e articoli di carpenteria leggera. La nostra organizzazione è strutturata nell'ottica di soddisfare le esigenze dei clienti e in particolar modo in termini di flessibilità produttiva e customizzazione prodotto. Questo ci permette di collaborare con i più noti EPC Contractor e di essere presenti anche nel mercato degli installatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.